che ci presenta invece un progetto elettronico diciamo sotto il nome di Spectre con l'aiuto del caro vecchio Aide che è qua a fianco noi diciamo dobbiamo fare due parole di introduzione all'inizio proprio di quelle tecniche come fossimo degli ingegneri perché poi quando si parte qui non ci si ferma più e sarà diciamo un lungo treno che corre per citare un po' di musica disco questo lavoro è un lavoro elettronico intanto se uno poi volesse andarlo a trovare in rete c'è la pagina Spectre si c'è su facebook c'è imspectre.com che è il mio orrido sito in cui però si può trovare tutto quanto quello che facciamo noi due insieme certo lì c'è diciamo la vostra attività, la vostra discografia e se volessimo così dare due riferimenti prima di entrare nel viaggio così musicali qua stiamo parlando di musica elettronica stiamo parlando di musica elettronica stiamo parlando di musica che solitamente è molto tecno molto chiusa, molto oscura questa sera visto Piazza Vittoria e visto anche l'orario abbiamo scelto una track list un po' più leggera un po' più sull'electro quindi un po' più lounge no, lounge alle grotta un po' più alle grotta va bene allora siamo pronti per entrare in questo flusso signori e signori qui a salotto Spectre yes e quindi un po' più Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.